salve a tutti bentornati in un altro video e benvenuti se siete dei nuovi iscritti o comunque state vedendo i miei video per la prima volta mamma mia fa un caldo e esagerato lo so dico sempre le stesse cose ma ve lo giuro guardate io devo uscire anche solo per cinque minuti dei servizi importanti e c'è io veramente faccio la doccia prima di uscire come metto il piede fuori casa è come se non l'avessi fatta la devo ne devo rifare altre tre dove assurdo 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 io non ho mai sentito così caldo in tutta la mia vita negli anni passati per quanto abbia fatto caldo affuso ma non in questo modo quest'anno è veramente il top vabbè come potete vedere sono andata una seconda volta da pilato perché mia madre diceva tutte quelle offerte io devo andare mi accompagni quindi sono andata un'altra volta anch'io effettivamente comunque c'erano delle cose che voleva veramente la pena acquistare e quindi l'ho fatto come sempre i prezzi ve li metto in sovrimpressione così non perdiamo troppo tempo a cercare il prezzo nel caso non non lo riesco a trovare sullo scontrino bla 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 come facevo sempre all'inizio quindi inizio subito premetto che ho speso 33 euro e 09 ho preso general lavatrice questo qui è da 27 lavaggi che corrisponde a un litro 350 quando lo spesso quando è in offerta non è male fa il suo dovere non profuma per me chissà quanto però non fa niente mettono abborbidente e ciao invece ci sono comunque alcuni detersivi sono molto più profondi però non fa niente qua purtroppo sono andata male io perché ragazze perché con due prodotti l'ines della linea cotone avrei avuto ricevere una borsa una borsa amare comunque una borsa di tela io ho preso siccome li uso molto i salvaslip in cotone ma purtroppo non sono ancora i gadget non sono ancora arrivati al negozio voi direte vabbè magari una scusa noi io comunque non credo perché comunque in questo negozio non mi sono mai stati negati i gadget né quando comunque c'era l'offerta dedicata magari compravi due pezzi di un prodotto particolare avevita un altro prodotto ma spesso e volentieri mi fidelizzano proprio con tante mini size voi lo sapete anzi se vedete il mio ultimo video proprio sul nostro svuota la spesa di pilato mi hanno dato anche dei mini diodoranti per i piedi per esempio invece un'altra volta mi hanno dato delle schiume da barba quelle la che in pare le ho portate a charme per mio marito oppure un'altra volta mi hanno dato delle mini maschere per capelli sempre da portare in viaggio perché comunque erano pure di dimensione abbastanza grandi tra virgolette da poter entrare nel bagaglio a mano e e quindi non erano proprio solo le mini size diciamo nelle bustine ecco quindi sono andata sempre bene novità i nuovi lenor le nuove fragranze ne sono uscite ben tre le località italiane più belle capri panarea sicilia panarea e portofino quindi vicenza non comunque lì buia allora vorrei sentire almeno questo qui di capri tanto comunque gli alterni non male non male beh classico profumo di pulito diciamo non ha una profumazione così particolare gli altri non li apro però comunque secondo me sono sono ottime profumazioni secondo io questa è un'ipotesi che sto facendo io mi da l'impressione che siano frutti esotici questi qua non mi dite perché non mi chiedete perché ma è una sensazione non voglio aprirlo perché comunque già altri due ammorbidenti aperti ovvero quelli di tesori d'oriente come pensate io l'ho aperto anche questo c'è comunque l'alterno anche questo portofino la fioritura primaverile dice quindi sarà sicuramente un profumo più floreale era un'offertissima e io non potevo non approfittarne non l'ho fatto solo io infatti lo scaffale era vuoto praticamente lo sconto maxi sui dove perché io li ho pagati 99 centesimi sia il formato da 150 ml con la bomboletta con la bomboletta con il gas questi qua con un gas diciamo e sia questi qua senza gas poi anche se volevate anche quelli stick era la stessa identica cosa quindi ne ho presi 10 pensate che questi qua questi qua spray con gas diciamo erano sono rimasti solo della fragranza talco e infatti ho preso solo quelli no per altra anima sto anche invisible dry però non li preferisco e anche le altre profumazioni comunque io non le trovo efficaci come queste qui o comunque le classiche quindi ho preferito non prenderle infatti credo che tutti la pensano alla stessa maniera perché quelli lì non sono stati affatto toccati quelli classici e quelli talco sono gli unici ad essere terminati per quanto riguarda quell'altro ho preso ci ho presi cinque e poi ho preso altri cinque di questi qua senza gas e questi qua sono tutti della fragranza classica ok è tutto spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto e vi abbia venuto compagnia non dimenticate di mettere like al video commentare iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per le notizie che non perdono nessun altro video aggiungetemi sui social instagram e facebook i link sono qui sotto che direi vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao